E' stato scarcerato il 41enne che la sera del 25 gennaio aveva sparato al cognato in un appartamento di via Benvenuti alle porte del centro Aretino. E' stata infatti accolta la nuova istanza presentata dai legali dell'ex guardia giurata. Il GIP adesso ha concesso i domiciliari dopo circa due settimane di reclusione. Inizialmente la richiesta era stata rigettata ma adesso l'uomo accusato di tentato omicidio è stata trovata a una collocazione diversa dall'abitazione dello sparo. Andrà a casa di un familiare luogo ritenuto più idoneo per applicare la misura meno afflittiva. Quella drammatica sera tutto sarebbe partito da una lite scatturita dalla gestione dell'anziana madre tra il 41enne e la sorella che ad un certo punto avrebbe chiesto l'intervento del marito un 46enne. Una discussione sempre più accesa sino a quando l'ex guardia giurata aveva impugnato la pistola in dotazione per il suo lavoro ed esploso un colpo contro il cognato. Lo sparo lo aveva raggiunto all'addome, oggi è ancora in convalescenza ma dopo due interventi e giorni di prognosi riservata le sue condizioni ora sono comunque migliorate.